Vince il roleggio per 5 a 1 qui al comunale di Via Roma, vittoria tennistica ed importante per gli Orange. Andiamo con i gol al sedicesimo minuto del primo tempo, Bottone con un boli da d'incrociare sorprende Falconelli e Bissacca. Undici minuti dopo lo stesso Bottone se ne va sulla destra e serve Blanda che di testa mette dentro. Al trentottesimo minuto sugli sviluppi di un corner, Euro goal di Fernandez dal limite che riapre la contesa. Tre minuti dopo però azione personale di Blanda, velocissimo, il quale solo davanti al portiere di casa scarica in gol. Nella ripresa gli altri due marcature oleggesi, al venticinquesimo il poker, Penna scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Zenoni in uscita. Al trentasettesimo minuto c'è gloria anche per Ernesto Pagliotta che di testa infila il 5 a 1 conclusivo per gli Orange. Il punteggio finale è Varallo Pombia 1 e Leggio 5. Grazie a tutti.